È indubbio che noi tutte le partite le prepariamo per fare risultato. Abbiamo lavorato bene, sono contento, abbiamo qualche acciacco, però questo non mi preoccupa, nel senso che quelli che ho a disposizione sono motivati. Sappiamo che è una partita in meno, di conseguenza dobbiamo darci sotto, perché dobbiamo cercare di andare a fare un risultato, sapendo che di fronte troveremo una squadra che ha delle ambizioni diverse dalle nostre. Se andiamo a vedere, cominciano a mancare poche partite alla fine. Ogni partita diventa una finale, tutte le partite sono determinanti, anche quelle che abbiamo già giocato. È normale che più vai avanti e più i punti pesano, perché le altre ho visto che continuano a fare risultato, di conseguenza non dobbiamo perdere terreno, ogni partita per noi deve essere l'ultima partita. Questa settimana abbiamo provato anche a giocare con un sistema di gioco, visto che abbiamo qualche defezione dietro, di conseguenza dovremmo essere pronti sia a giocare in una determinata maniera che in un'altra. Non è una questione di mentalità. Piano piano stiamo crescendo, anche se gli ultimi risultati non sono risultati positivi, però piano piano la squadra, secondo il mio punto di vista, sta crescendo. Io mi aspetto sempre dei miglioramenti. Poi il sistema di gioco lo fa la volontà dei giocatori. Carrara ha grandi qualità. È normale che giochi in un ruolo particolare, perché io all'inizio l'ho provato dietro, diciamo, nella prima partita, dietro la punta. Però ultimamente poi, guardando e analizzando un pochettino il suo comportamento, è un giocatore che è molto bravo tecnicamente, è un giocatore che ci può dare una mano in certi momenti, quando probabilmente dobbiamo aumentare un pochettino la qualità in determinate zone del campo. Sicuramente. Dona ripeto, io sono soddisfatto. Chi non ha giocato fino adesso mi auguro che si faccia trovare pronto. Ma gli avversari è una buona squadra. Io ho guardato diverse partite, andando indietro addirittura fino alla partita che hanno giocato con il Padova, perché per vedere un pochettino come si sono comportati contro tutti i moduli di gioco che le varie squadre di questo giro ne affrontano. È una squadra che aggredisce, è una squadra che gioca in un campo molto grande, dove ci sono ampi spazi e dove giocare, se uno ha la tranquillità di poter giocare, c'è la possibilità di giocare. Però sicuramente è una squadra che ha delle buone individualità.